E oggi un video dove guarderò il mio gatto Ok grazie Ma che figata è questo E ciao a tutti ragazzi Sono Lorenzo E benvenuti Benvenuti su Eddie and the Misfits Ma che canzone è questa What Allora ragazzi benvenuti su questa Nuova demo di un gioco Ispirato ovviamente a FNAF molto Carino dove il protagonista Principale è un topo Sinceramente non so se devo preoccuparmi si o no Dette questo ragà Io direi di iniziare New game Oh Ma è bellissima sta roba Ciao Sì grazie per il ritorno Grazie Ah ma questo è un grimaldello Per aprire Ma che è un puzzle Subito ai primi secondi facciamo Lupen Subito Che devo fare? Dovevo renderlo verde Allora combinazione assurda Dai Lupen ce la puoi fare Ci sono un sacco di cose Qual è la combinazione? Ammetti te se devo restare 3 milioni di anni Per fare sto giochino Allora ci sono 5 cosi Le combinazioni possibili Sono 3 miliardi di milioni Come faccio? Beccarla Allora ho capito Devo utilizzare le istruzioni Premi due levette alla volta Per sbloccare il blocco del pozzetto Oh Ci volevano le istruzioni Click and drag Clicco Ma perché questa cosa con la manina? Abboni Apriti Si è aperto Ora entra nell'ufficio Abbiamo iniziato benissimo Oh meno male che esistono le istruzioni Grazie Benvenuto Ma questa è una marca È bella Cioè è del Però l'ambientazione veramente mi piace È fatta veramente troppo bene E che bello Cosa devo fare? Perché c'è un pulcino che mi fa l'occhiolino Camere No 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 Così mi riesco sotto sotto Così invece apro Che cos'è? Una civetta drogata Ma era l'orso della casa azzurra Ma spiegatemi perché l'orso della casa azzurra blu quello che era Allora Here we go again Ma c'è un topo Stavo dicendo c'è un gufo E sono morto Presumo che questo serva per chiudere la porta Allora se c'è un animatore qua dietro So già cosa cliccare Questo se non sbaglio è una porta Se c'è qualcuno davanti cosa devo fare? Queste icone indicano la temperatura delle stanze Più veloci sono Più Oh Calde sono Chiuditi Che cosa fai? Un tasto preme non voglio morire Ciopende 3.0 non mi uccidere Devo riscaldare le stanze? Come faccio? Allora Allora Istruzioni Etty Premi il grande bottone rosso alla tua sinistra E questo Ci abbiamo Topsy Riscalda la stanza in cui si trova attualmente Per spostarlo indietro Riscaldando una stanza per troppo tempo si resetterà Cioè per capire un gioco ora devo seguire pure le istruzioni Ma stiamo scherzando Posso mutarti? Ti devo mutare Etty Arriva dalla sinistra E qua ci siamo Se c'è un tizio qua davanti Cosa devo fare? Nascondino sotto stivania Quindi devo fare così Etty Dimmelo prima Posso anche congelare le robe? Così diventano più lente Trappola per topi Via sotto 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 Come faccio a capire se sei andato? Ho detto come faccio a capire se sei andato Ah sei andato Genio Oh ora ho capito come si gioca Il problema è andare a vedere chi è Topsy Sei tu Topsy? Il coccodrillo Coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Che bello Gli animatronics sono veramente originali A parte Chopin Lui c'è ovunque Ed è sempre uguale dappertutto Controlliamo 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 tutti Mi sa che c'è l'animatronics Che si avvicina di più a me E quando succede Io devo riscaldare E non è Eddie Visto che Eddie è facilissimo Da mandare indietro Le cucine Datemi le cucine Esistono le cucine Ho sentito Hit Sono ancora vivo? Due del mattino Ma perché sto luogo è tutto topi? Il clown Sono stato ucciso da Hit Uffi Ottimo Mi piace questa demo Devo riuscire a capire come funziona Ma ce la farò Allora Chi è? Dov'è il clown? A te non me ne frega niente Se fai qualcosa Ma dov'è il clown? Ah topo Shop in 3.0 Stati fermo Se l'ha dato? Se l'ha dato Ok Il problema Non è tanto Quei due animatronics Che mettono Adesso il problema È il clown Dove trovo Un maledetto clown? Se io Sto troppo tempo A premere il tasto Riscalda La ventola si blocca E non posso più utilizzarla La ventola Per riscaldare Se lo va a buttare Indietro un animatore Si Eccolo Il clown Riscalda tutto Manda a fuoco tutto Dimmi che sei tu topsi Ok Sono contento Di non essere ancora morto Già la prima notte È così difficile Sto gioco E non pensavo E cos'è? Sei mosso Io ho detto Stati là E lui si muove Sono un clown Semplice Ti voglio Uccidere 3 del mattino Certo che sto clown È veramente difficile Da battere Cioè Devi starlo a controllare Ogni minimo secondo Ogni millesimo di secondo Facciamo che lo controllo Solo quando è qua 4 del mattino Dai che ce la fai Riscalda tutto Non pensavo che questo gioco Fosse così Brutto Ma a parte il clown Controllare altre stanze Per vedere Quante cose belle ci sono Così Abbiamo vinto Dovrei essere contento Abbiamo vinto Raga Non c'è stata Enfasi In questa vittoria Cos'è stato Muoviti davanti No no clown No Zer Dai clown No Ma fatemi vedere I clown E li odio Da questa parte Non ti ascolto Cosa dovrei fare Non l'avevo visto Tetris Ah No Che figata Ma no davvero Hanno fatto sta cosa C'è tu devi seguirlo Con C'è tu devi seguirlo Con la luce del mouse Dai Sii Certo che ho un senso dello spazio Incredibile Dai c'è L'abbiamo fatta qua No Non posso perdere Sii Come 2 di 3 Come 2 di 3 Ma cos'è diventato sto gioco The Warren Treasure Game Ever Tonnozione maledetto Ti meriti il peggio Le paliere sono pelle Ma fa bagno gli ignomi come un altro ce n'è ma quanti sono l'infinità da dove devo andare poi io dai non sbagliare grazie cioè dovevo fare tutto sto discorso per far funzionare il coccodrillo ok ragazzi io direi che il video di oggi non posso anche terminare qua e niente spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto lasciate tantissimi pollice in su soprattutto per il mio cuore che tra infarti e rabbia non so se ancora legge e seguitemi pure su instagram guarda allora ci sia tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao 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 ciao